La Lazio vince anche contro il Tassuolo e adesso la Juventus può staccare il definitivo pass per lo Scudetto se dovesse vincere questa sera contro l'Atalanta Partita che il Tassuolo a mio avviso ha meritato di vincere, partita giocata a ritmi altissimi, veramente molto stancante perché oggi a Roma ha fatto veramente tanto tanto caldo Quindi sicuramente partita tosta per entrambe le squadre sul piano fisico e sul piano atletico, ma il Tassuolo per me ha giocato meglio e ha meritato di vincere Non capisco come possa essere stato annullato il gol dei Neroverdi nel primo tempo, gol per me totalmente regolare, non capisco dove sia il fuorigioco che poi è stato sanzionato E che ha permesso in un certo senso anche di annullare il gol dei Neroverdi che per me era regolarissimo Comunque la Lazio è passata in vantaggio con la rete di Luis Alberto, ottimo lo spunto, la discesa come un treno, Lazio arriva sulla destra, la mette in mezzo per Luis Alberto che è fortunato sul rimpallo e che beffa consigli 1-0 per la Lazio a fine primo tempo, ma sa solo che comunque se la gioca a viso aperto e gioca veramente molto bene Oggi per me De Zerbi ha insegnato calcio non solo alla Lazio ma proprio a tutta Italia De Zerbi comunque è un allenatore che stimo, che apprezzo e che sicuramente nelle squadre medio-piccole ha sempre fatto bene Lo abbiamo visto anche al Benevento in quella brevissima, brevissima parentesi che ha avuto Comunque non ha deluso più di tanto con l'organico che aveva a disposizione Nel secondo tempo il Sassuolo pareggia, rete di Raspadori e allora in fase di uscita da parte della Lazio si innesca una specie di contropiede Anche se si tratta comunque sempre dell'azione giocata nella metà campo bianco-celeste Contropiede che vede alla fine Raspadori appoggiare da pochi metri oltre le spalle di Stracoscia Ma diciamo che il suo non è un gol brutto perché alla fine è vero, ha avuto una grande responsabilità Doveva finalizzare l'azione però sicuramente si trovava da solo e senza copertura Diciamo senza giocatori che gli stavano alle spalle e che mettevano pressione anche a livello mentale Ma non solo a livello fisico perché comunque non era una vera e propria marcatura quella della Lazio sul Raspadori Visto che i bianco-celesti sono stati presi un po' alla sprovvista riguardo queste azioni in contropiede Molto veloce da parte del Sassuolo E poi c'è anche la rete a tempo praticamente scaduto di Ciccio Caputo che appoggia Caccio d'angolo, sponda di Ferrari, arriva a Ciccio Caputo che a due passi dal palo La mette oltre Stracoscia e fa 2-1 Sassuolo che quindi può ambire miracolosamente Miracolosamente ad una posizione europea anche se la vedo veramente molto molto dura Sassuolo che comunque è in crescita, ha vinto contro la Fiorentina, ha fatto 4 gol a Lecce Oggi ha fatto anche 2 gol alla Lazio che non è sicuramente la Lazio pre-lockdown Ma è comunque una squadra di tutto rispetto che Inzaghi in questo momento non sta più riuscendo a gestire E la Lazio ormai deve solo sperare di mantenere il secondo posto contro un'Atalanta Che se la sta giocando molto bene, che si sta giocando tutte le proprie carte in maniera egregia E che questa sera andrà a Torino a giocarsela contro la Juve Il video finisce qui, ringrazio per averlo visto Vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e una iscrizione al canale Ciao a tutti